Renzi ha vinto il congresso ed è il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. A cascata in diverse amministrazioni, tra cui Piacenza, c'è quindi la necessità di livellare le rappresentanze del partito. Ecco perché il sindaco Dosi ha deciso un rimpasto di giunta. Forti però le critiche da parte dell'opposizione. La decisione del sindaco Dosi di apportare sostanziose modifiche alla giunta comunale proprio non piace dentro e fuori alla maggioranza di palazzo mercanti. Sull'argomento infatti, oltre all'area politica del PD, che fa riferimento a Cuperlo, sconfitto alla segreteria nazionale dallo sfidante Renzi, anche il Movimento 5 Stelle esprime ai nostri microfoni il disappunto derivante da un utilizzo partitocratico delle istituzioni comunali. Il partito sopra i cittadini. Il partito è diventato un'istituzione a parte e decide il bene e il male di quello che è poi dell'amministrazione, in questo caso anche di Piacenza. Non mi saranno calati sicuramente dall'alto, non sarà scelta sicuramente la meritocrazia. Noi faremo un invito, signor sindaco, di usare proprio il metodo meritocratico, quindi con curriculum, evitando scelte proprio dall'alto. Qua però bisogna aprire proprio una bella parentesi. A questo punto bisogna capire che cosa sono i partiti. E' per questo che il Movimento 5 Stelle non vuole mai essere un partito, non vuole fare tesoreria, non vuole fare assolutamente niente che possa uscire dalla scelta vera dei cittadini. Ma non solo. Secondo il Movimento 5 Stelle, la giunta di centro-sinistra si è contraddistinta per incompetenze ed approssimazione che hanno portato al nulla di fatto. Diversi attuali assessori con deleghe in materia che hanno ricadute permanenti ed in grande impatto sulla città e sulla vita dei cittadini hanno dimostrato di non tenere in considerazione i reali bisogni della popolazione e delle attività economiche deboli, privilegiando invece i rapporti con i gruppi sociali più forti. Siamo abbastanza sorpresi che le poltrone e le spartizioni e le beghe interne di un partito possano prevalere rispetto all'interesse e al bene della città. Fino adesso, come ripeto, si è fatto veramente poco, è stata una giunta molto inconsistente, a tratti anche approssimativa e quindi speriamo veramente che le nuove deleghe siano date facendo riferimento soprattutto al merito, alle capacità, piuttosto che alle spartizioni politiche, veramente vecchia politica, che basta, non ne possiamo più. Il primo cittadino Paolo Dosi ha fatto comunque sapere che il percorso di redistribuzione delle deleghe sarà concluso nel più breve tempo possibile, entro lunedì prossimo 13 gennaio, in concomitanza con la convocazione del primo Consiglio Comunale dopo le festività natalizie, uno scenario che potrebbe riservare ancora poderosi colpi di scena.